Rossi ha girato 5-2-4 in Torrica, il luogo che su Persisti si concedi gli si faccia sotto e a 4 decidi si concedi, che è ben vitalissimo, e al giro preso d'Italia vale più che aveva persi 2, e Rossi ha preso anche un secondo... e 4, che è un secondo di Lorenzo, ah un secondo di Lorenzo, e Pedro Rossi ha preso il secondo piletto di Stoner, gli hanno dato la definitiva mente sua, che ha fatto un errore che non abbiamo visto, ha girato 1-5-8, con 49-8, il Stoner continua a battere in crisi Stoner. Sì, per far notare una cosa perché è sta tutto nella velocità di punta la differenza. di prestazioni in generale di questo weekend? No, non è solo, ma è molto importante perché è un territorio lungo che la curva di ingresso è lenta, quindi la generazione e la velocità sono importanti.